Incursione vandalica al Palacursica di Gela e non è la prima volta danneggiata le porte d'ingresso, rotti catenacce portati via gli estintori, mani ignote hanno rovistato anche negli armadi, che ha agito e inoltre ha reso inagibile il parquet. Un vero e proprio ride. E questa mattina la struttura sportiva avrebbe dovuto ospitare la festa di carnevale alla presenza di migliaia di bambini. Saltata. La struttura è oggetto di interesse da parte di qualcuno e viene sempre continuamente attaccata. Io sporgerò denunce tramite gli uffici competenti per cercare di capire quali siano i motivi di questo attacco. Lei crede che si tratti di un atto di sabotaggio, considerato che oggi proprio al Palacursica doveva svolgersi una festa di carnevale in grande stile con la partecipazione di migliaia di studenti? Io non lo escludo come ipotesi e anche potrebbe essere un motivo per rendere questa struttura inagibile, per far vedere che questa struttura non può essere gestita dal pubblico in una maniera molto forte. Chi agisce sa addirittura tutto del Palacursica. Considerato che hanno agito di sabato, sapevano pure che in quell'occasione al Palacursica non c'era nessuno. Sì, infatti anche questa qui è una cosa che fa pensare. Cercheremo di rivolgerci agli agenti di polizia, agli organi di polizia, per vedere un po' di indagare un po' di più su questa faccenda. L'amministrazione comunale di Gera si opererà per dare in gestione la struttura sportiva a qualche società locale. Sarebbe una soluzione interessante, tra l'altro è la soluzione che avevo consigliato sin dall'inizio del mio insediamento, ma per fare gli affidamenti, per fare le gare, per fare tutte le procedure amministrative, passano dei tempi che non possiamo permetterci, visto come poi alla fine vanno a finire l'incertezza amministrativa. E tutti i bambini che oggi avrebbero dovuto qui partecipare alla festa di carnevale, oggi che faranno? Oggi sono ognuno nei propri plessi scolastici, nelle proprie palestre, gestite dai propri istituti, dai dirigenti scolastici, e continueranno i festeggiamenti così, insomma, in maniera separata, e poi domani faremo invece il corteo di carnevale. E per quei bambini che oggi, come dicevo, avrebbero dovuto partecipare a questa manifestazione, quanto è accaduto? È un colpo al cuore? Certo che è un colpo al cuore, ma è un colpo al cuore di tutta la città, che, insomma, aspettava questo momento, insomma, se una struttura pubblica non serve per fare delle cose pubbliche, insomma, siamo veramente messi male.